Un grande passo per l'uomo e un piccolo, piccolissimo passo per l'umanità... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ... ... Verde! Ricordatevi! Aaaaaaah! Eici! Aaaaaah! Ancora! Più forte! Aaaaaaaah! Rie-dre-da! Sembra sempre più sicuro di sé Quest'oppe dà un atteggiamento militare No Il nostro corso di QTSS C'è un diritto dell'uomo alla fotografia, e non sapere in fondo è meglio un tutto. Toro Torello, siamo carne da macello, Toro Torello, siamo carne da macello. Toro Torello, chi ti spenderà l'innovinello?